L'applauso, l'applauso signore e signori, l'applauso. Signori e signori, l'applauso continua, signori e signori da questo momento di mister, Manuel, Gattioni, 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 DJ. Gattioni, 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 Gattioni La luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna. Animo! La la luna! . . Sono Piacco! Vogliamo ritorno in prima fila, solo per mano i campioni, mani, mani, mani! La classe L'Oriacqua! La classe L'Oriacqua! La classe L'Oriacqua!